Bentornati nell'avventura di Larax, eccoci qui! Allora, nell'ultimo episodio avevamo fatto un po' di cose vecchie, completate, anche se molte cose non sono riuscito a completarle, spero che magari in futuro me le faccia completare. Tipo la grotta, mi pare, che ero arrivato fino all'altare dei sacrifici, però non è successo niente. Vabbè, innanzitutto ci siamo preso le quattro puttane potentissime qua, i contadini, fatemi ricordare cosa devo fare, solo... Allora, ovviamente gli stronzi devono sempre sopravvivere. Parla con Recati a Delvania dove ti aspetta Durutan. Durutan. In viaggio, in questo inverno molto freddo. Dove sei? Ringrazio gli dèi Larax, che piacere vederti qui. I romani si sono impossessati di tutti i villaggi dell'altro lato del fiume e li stanno usando per procurarsi viveri per le loro truppe. Abbiamo informato Vercingetorige, stiamo aspettando che arrivi con un grande esercito, ma intanto devi fare in modo che i romani non riescano a riunire abbastanza viveri. Bisogna fermarli, Larax. Votto Atre, ti assicuro che non permetterò che ci riescano. Che informazioni hai sul modo in cui riuniscono i viveri? Avrei anche bisogno di sapere che rotte seguono e come le proteggono. I viveri vengono caricati su dei muli, che vengono poi scortati fino a un punto d'incontro e da lì portati direttamente agli eserciti di Cesare. La nostra unica opportunità consiste nell'attaccarli prima che arrivino a quel punto. Abbiamo delle spie tra i soldati romani, quindi saprai quando si dirigeranno verso il punto d'incontro. Ok, allora. Elimina ogni presenza romana. Proteggi del vania, va bene. Attacca i muli di approvvigionamento, va bene. Oh, finalmente è un'altra città. Zio, cane. Quindi devo andare dall'altra sponda del fiume. Vabbè, ma non è un problema, eh, ciò. Diciamo tre barchette. Ok, allora, ragazzo. Perodino. Ci dirigiamo qua. E andiamo. Evita che i romani ottengano cento unità di viveri. Va bene, non è un problema. Andiamo subito a un villaggio. Vabbè, ormai andiamo da questi, dai. Che sono al 29, ragazzi. Non fanno letteralmente niente. Questi? Eh, questi sono già al 36. Eh, però due unità l'ho perse. Eh, ma perché colpa di sta merda. In battaglia! Hai i tuoi ordini. Minchia, pensavo che mi stava morendo il mio esercito, zio fa. Mi sono spaventato. Oh, zio fa picchiano, eh. Oh, questi... Dai, oh! Erano fermi lì che non facevano niente. Non ci sto per credere. Gloria a morte! Oh, ma non ci posso credere. Ogni secondo mi conquistano il coso. Ma vaffanculo! Ma da dove cazzo poi rimandano queste unità? Ma che cazzo stai facendo? Ti ho detto di andare qua, coglione! Minchia, non mi fa... Dio porco, con sti cazzo di cavalli! Dio, fame! Dai, che rotture di coglioni! Sti cazzo di cavalli mi stanno facendo girare i coglioni! Devo avere un po' di cavalli, che così faccio prima. L'unica. Ma guarda che sta qui, immobile, zio cane! Rincoglionito! Ma Dio porco! Sto cazzo di cavalli di merda! Minchia, non li sopporto più! Gli arcieri ovviamente sono fuori, che così ci facciamo uccidere! Oh, villaggino! No, dai, se lo so rip... Dai, odio cane! Ma dove cazzo le sparano ste cazzo di unità? Dio porco! Dai, sti cazzo di cavalli! Adesso, minchia, con questo esercito di cavalli vado solo a romper gli coglioni, eh! Ma perché non lo conquistano? Dai, zio cane! Minchia, sti cazzo di bug! In teoria sono bassi di livello, eh, questi! Sì, hanno quel capo normano che forse ci darà del filo da torce, però... Aspetta che facciamo così, va, che... Non si sa mai che c'è l'Arax mezzo morto, zio cane... Ecco, già parte! Dio porco per beccarsi tutte le frecce! Ecco! L'Arax! Dio porco! Muori così! Dio cane! Gloria a morte! Zio fa che danno che mi hanno fatto! No, carichiamo la partita, va! Ma perché non attaccate tutti? Perché? Perché? Vi dà fastidio? Anche questo... Io ho rotto il cazzo! All'attacco! Dai, oh, non ci credo! Ancora ne hanno mandate da... Dove cazzo le cagano, ste cazzo di cose? Ma guarda l'Arax come perde vita! Zio cane! Dai, no, non ci credo! Dai, dio porco! Ma perché non recupera vita? Dio cane, minchia! 3.000 anni per recuperare sta cazzo di vita! Sto rimbambito! Ma dai, ma veramente dai! Dio cane! Minchia 3.000 anni per recuperare sta cazzo di vita! Dio porco! In battaglia! Cioè, 3.000 muli e non recupero un cazzo di vita, eh! Dio porco! Viva a conquistare questa adesso! Oh, zio cane! Ti è buggato il coso che non escono più? Cioè, scusatemi... Ma guarda quanti bug che ha sto gioco! Ma veramente! Una cosa imperterrita! Zio cane! Non escono neanche le unità a difendere! Ecco! Bravo! Bravo! Vai a farti uccidere! Bravo! Bravo! Sì! Bravissimo! Bravo! Bravo! Vai a farti uccidere! Già prima... Ma dai! Oh, ma non ci credo! Ma dio cane! Difendete sto cazzo di forte! Dio porco! Minchia, razza di handicappati! Ma stiamo scherzando? Perché non lo attacchi, scusa? Che sei ingittata, scusa? Non ho capito! Oh! Dai! Oh! Ma veramente! Avete veramente scassato il cazzo! È che non attaccate, zio cane! Minchia, 20 unità per colpa vostra! Ho perso! L'Arax sta continuando a morire, invece! Dio porco! Oh, questa è l'ultima struttura! Poi vi siete proprio levati dal cazzo, eh! Gloria a morte! Via! Fuori dal cazzo! Non avete più i coglioni! Che vi ho conquistato tutte le strutture adesso! Cioè, manca quel porto! Anzi, lo andiamo anche a prendere, magari! Ascoltatemi, Galli! È giunto il momento di dimostrare che non siamo un gruppo di tribù indolenti! Ora faremo vedere a Cesare e alle sue legioni di che pasta siamo fatti! Non deve restare in piedi neanche un soldato romano! L'Arax, hai dimostrato di essere il più grande eroe che la Gallia abbia mai avuto! Assumi il comando dei nostri eserciti e fai sì che i romani si inginocchino ai nostri piedi! Va bene, va bene, va bene! Non ti preoccupare! Sì! Vai! Tutti addosso! Assegno! Cioè, basta solo lui? Basta solo lui? Basta solo lui? Buu, forse me lo dava prima se intercettavo il coso, eccetera, forse! Può essere! Buu, secondo me sì, secondo me se intercettavo subito la rotta andavo lì e me ne dava subito il vercinge! Ho teso il mio arco! Tiè! Vaffanculo, vaffanculo! Mappa di merda! È una mappa di merda! Abbiamo dimostrato a quei maledetti romani di cosa sono capaci i Galli! Hai combattuto bene, L'Arax! Grazie alla tua guida abbiamo vinto! Ho combattuto come gli altri, vercingetorige! Tutti i Galli hanno fatto il loro dovere! Ma non perdiamo il tempo in lodi! La battaglia può essere finita, ma non la guerra! Ci manca ancora qualcosa! Dei capi! Ho già comandato degli eserciti e potrò farlo ancora! Certo che lo farai, L'Arax! Ma abbiamo bisogno di gente come te! Conosco una persona il cui valore è grande quasi quanto il tuo! Si tratta di un guerriero con molta esperienza! E la sua tribù non ha mai perso una battaglia! Avremo bisogno del suo aiuto in questa guerra! Se è così, ti porterò quell'uomo! Il comandante che cerchiamo si chiama Lutal! Mi hanno detto che lo potremo trovare nella fortezza di Revecar! Trovalo, L'Arax! Io resterò qui nel caso in cui i Romani decidessero di tornare! Ok! Alto là, cavalieri! Dove andate? Qui non c'è posto per noi! I Romani hanno catturato due dei nostri forti e mandano continuamente eserciti ad attaccarci! Solo il nostro capo Lutal ci potrà portare alla vittoria, ma è imprigionato in Aquitania! Se ve ne andate ora, i Romani avranno vinto! Se scappate, non ci sarà nessun posto sicuro e continuerete a fuggire finché i Romani non vi prenderanno e vi ammazzeranno come bestie! Parli come un eroe, ma ti sbagli se pensi che fuggendoci comportiamo come dei codardi! Il nostro capo è stato eletto dagli dei e nessun uomo ha osato affrontarlo in battaglia! Se i Romani sono riusciti a catturare un uomo come lui, noi che possibilità abbiamo? Proprio come il tuo capo, anche io sono stato eletto dagli dei! Ho tra le mie mani la pietra della Dea per dimostrare che quello che dico è vero! La pietra della Dea? Allora stai dicendo la verità! Torneremo alle nostre case e se vuoi ci sottoporremo ai tuoi ordini per recuperare le nostre terre e liberare il nostro capo Lutal! Ma non sarà affatto facile! Lutal è sorvegliato da guerrieri Romani d'Elite! Addio! E che gli dèi ci assistano! E anche per questo episodio è tutto! E che esistiuorizzano quella che ci sono due! Grazie a tutti.